come ne ho detto ripartiamo il filo è qua l'abbiamo visto prima adesso possiamo andare pronti? prego maestro al volo in volo ok mi levo no sono alte si fai un giro ora è circa un metro e sessanta cinque settanta perfetto ottimo che figata è funzionato ha funzionato perfettamente guardate grazie a tutti